Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video, stavolta faremo un unboxing invece di Master Duel perché parliamo della collezione leggendaria del 25esimo anniversario di Yu-Gi-Oh! Io grazie a Master Duel finalmente mi sono un po' riapprocciato anche se giusto un pochettino per queste commemorazioni per cose molto semplici, non per spacchettare tantissimo, però mi è ripreso un pochettino la voia di fare questo materiale quindi mi sembra anche un momento corretto quello di passare proprio alla collezione leggendaria del 25esimo anniversario che sono giusto, come possiamo vedere qui dietro i tesori del faraone, ritorno al 25esimo anniversario e qui abbiamo, se si riesce a vedere, le tre divinità egizie poi il drago bianco chi blu, il mago nero e il drago nero occhi rossi e poi una di queste, però nella versione della variante del 25esimo anniversario quarter century e poi ci sono le prime sei bustine che sono state rilasciate di Yu-Gi-Oh! quindi magari vedremo se riesco a trovare qualcosa tipo, che ne so, anfora dell'avidità o qualche carta così del genere incredibile adesso spacchettiamo un pochettino e vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare speriamo di farcela senza distruggere tutto ok mi è presa proprio la voglia di ogni tanto di prendere queste cose perché il master 2 mi ha fatto ritornare tanto di giocare a Yu-Gi-Oh! e quindi anche di magari ricollezionare ogni tanto qualche carta apriamo ok ecco il box va bene allora qui abbiamo già scusate la luce, ho tentato di fare il possibile abbiamo Obelisk e qui dentro ci sono le altre carte le altre cioè Obelisco c'è Dragolato di Ra c'è Slifer poi appunto Mago Nero Drago Bianco Chi Blu Drago Nero Occhi Rossi e poi uno di loro in versione superfica di Quartersentury che hanno fatto proprio per quest'anno quindi ah e poi qua ovviamente andiamo un pochettino a prendere tutta questa roba un po' qua non c'è altro non dovrebbe esserci altro qui dentro in realtà è stata una versione molto semplice che ha fatto Konami poteva fare di più però devo dire che ci può stare poi solamente per questioni nostalgiche non ci sta puoi ristampare anche queste vecchie carte che vabbè molte sono banate perché ancora sono super OP e saranno sempre super OP però per altre devo dire che ci sta anche solo vedere un pochettino che cosa si ottiene non saranno sicuramente giocabili a livello super competitivo però magari per il God Format o qualche cosa del genere si può fare e qui abbiamo per appunto la legione del Drago Bianco Occhi Blu il primo set poi i pedoni metallici sobrano della magia servitore del faraone crisi oscura e invasione del caos adesso però prima di questi pacchetti una mia uno spacchetto da boh 15 anni forse di più vediamo un pochettino che cosa abbiamo ottenuto apriamo qui mi sa che ho già capito qual è la carta che ho ottenuto figa però vabbè allora qui abbiamo obelisco a me l'illuminazione chiedo pardon non posso fare di meglio obelisco poi abbiamo scypher drago del cielo incredibile impressionante sempre e comunque drago alato di ra ovviamente poi abbiamo sono tutte super svilucicose tra l'altro non sono neanche versioni come potete vedere se si fa non sono neanche versioni con i loro FTF che c'hanno su Yu-Gi-Oh sul gioco di carte ma c'è il loro text il loro testo normale di descrizione quindi non sono neanche giocabili i loro tre per esempio qui c'è obelisco che dice la discesa di questa possente creatura sarà pronunciata da venti brucianti e terremoti e con la venuta di questo orrore coloro che respirano conosceranno il vero significato del sonno eterno poi abbiamo Slyfer Slyfer qui dice i cieli vorticano e i tuoni rimbombano pronunciando la venuta di questa antica creatura elaboro il vero potere e poi abbiamo Dagonatira che è quello che è sempre piaciuto meno il mio ranking è Slyfer obelisco e lui gli spiriti cantano di un potente creatura che domina su tutto ciò che è in misti quindi abbiamo queste qua poi passiamo a Drago Bianco Occhi Blu classicissimo fortissimo impressionante sempre col suo testo perché sono tutte i nostri normali poi abbiamo Mago Nero impressionante il più potente tra i maghi per abilità offensive e difensive believe it certo come no e poi il Drago Nero Occhi Rossi e poi abbiamo alla fine obelisco 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 il tormentatore in versione super starlight cazzi e mazzi vediamo un attimo dovrebbe uscire qua però non so se si riesce a far vedere da qua potete vedere in sottofondo qui 25esimo anniversario e poi tutta sbrillucicosa sbrillucicante la versione proprio speciale per quest'anno per i 25esimi anniversari di Yu-Gi-Oh! ci sta mi piace mi piace era la mia seconda scelta tra i tra le gold cards e poi abbiamo tutti gli altri diciamo che avrei preferito per l'appunto questo o questo o magari il Vago Nero o il Drago Nero Occhi Rossi però sono tutti fighi comunque sono un po' delle proxy diciamo così mettiamoli qui da parte e adesso prendiamo i pacchettoni partiamo no andando all'inversione del caos partiamo dal primo andiamo per ordine di quelli che sono proprio usciti giocabili in in Yu-Gi-Oh! quindi partiamo dalla legenda del Drago Bianco Occhi Blu spacchettiamo un pochettino sperando di riuscirci ok a posto mettiamo qui di lato e vediamo che cosa riusciamo a trovare da queste carte vecchissime leggendarie spada leggendaria Kagemusha della Fiamma Blu questo qua tra l'altro si ricollega successivamente ai sei samurai anche se non fa parte proprio dell'archetipo re verde degli spettri wow 1600 di difesa la maggior parte delle carte dell'inizio inizio inizio erano mostri senza effetto che facevano per lo più schifo a parte pochi perché erano meglio in difesa o in attacco e invece magia o trappole molto forti mi poteva capitare poi abbiamo orco d'acciaio va bene spirito dell'arpa ok questo è quello più particolar quindi lo mettiamo qui di lato armatura vivente mamma mia me le ricordo ste carte dovrei avercela ancora di lato soprattutto le versioni inglesi tesoro del drago elettrofrusta e zanna d'argentone nello structure deck di Yugi mamma mia Yugi lo sa mamma mia bellezza bellezza mettiamoli qua e mettiamo queste qua qua prendiamo i predoni metallici vediamo un po' che cosa troviamo spero di trovare qualche figata però vabbè vediamo giudice imperatrice quando le fusioni facevano cagare non sapevano quasi a niente anzi questa è però c'ha 2200 d'attacco bestia pallida ok mega sfera del tuono roba proprio ingiocabile drago del tuono il drago del tuono ci hanno fatto un archetipo vari anni fa adesso è proprio un archetipo il drago del tuono è una figata questa cosa e si usa pure lui hanno preso proprio lui come template per farci un archetipo totale e hanno fatto davvero un bel archetipo maschera dell'oscurità mamma mia questa si usava perchè si poteva utilizzare all'inizio non è che si usasse tanto il competitivo però scegli come bersaglio una trappa nel tuo cimitero aggiungi quel bersaglio lato male ed è uno scopri scopri ormai troppo non ce la fanno però Dread e Yami Makai Bugrot di terra va bene Pungiglione assassino che si può utilizzare in un mazzo specifico solo per un'interazione specifica adesso però vabbè non è nulla Ike giusto perchè ha poco attacco e Ibikime questa non la conoscevo ogni arch va bene andiamo avanti con sovrano della magia e mi pare che qui poi esce una delle magie che non avevano senso di esistere vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare noi vediamo un po' muore a labirintiche questa che era la carta dei fratelli paradox vabbè 3000 di difesa però che ci hanno anche fatto il gate guardian ci hanno anche fatto un retrain un nuovo archetipo praticamente solo sul gate guardian che era già diciamo diversa da un archetipo potremmo dire però gli hanno fatto proprio ultimamente in mezzo of memories se non sbaglio è la serie di pacconi che sono uscite di recente ed è piuttosto carino poi vediamo uccello regina 5 stelle 1288 2000 di difesa ingiocabile che devi tributare qualcuno al tempo umicura tutti i mostri d'acqua è una carta magia da terreno ultimamente guadagnano 500 di attacco e perdono 400 di difesa ma ci potevo stare se avevo un mazzo solo d'acqua rioran mamma mia me lo ricordo pure rioran nulla di che però soprattutto perché era 1 2 3 7 stelle giocabile proprio angelo splendente e fortissimo era fortissimo al tempo perché dice quando questa carta viene agli istruti in battaglia e mandata al cimitero siccome per la maggior parte delle istruzioni erano per battaglia si contava topissimo la battle phase al tempo era molto più lento il gioco per evocare specialmente un mostro luce con un attacco 1500 inferiore al tuo deck scoperto in posizione di attacco pure egli stesso potrete rievocare ottima carta davvero ottima carta per il tempo oddio ho trovato una super sbellucicante oddio drago serpente notturno 7 stelle 2250 d'attacco e 2500 di difesa mi pare di riconoscerlo questo qua non è nulla di che non si giocava mai nella vita però bello vederlo bello 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 grande previsioni meteo previsioni meteo allora ragazzi questa è dura perché scopri distrugge tutte le carte spade rivelatrice e l'avversario scoperto sul terreno quindi è ultra mega specifico in scopri ingiocabile e poi se una spada rivelatrice viene distrutta puoi effettuare due volte la battle phase durante il turno attuale o nel turno successivo se questa carta è stata attivata durante il turno del tuo avversario questa carta se non sbaglio c'è anche un'altra carta però credo che sia specificamente colpa sua questa carta è il motivo per il quale ogni volta Konami deve specificare ad esempio quando un mosto può attaccare due volte in una battle phase deve specificare Konami può attaccare due volte in ogni battle phase questa carta è stata solo un danno poi abbiamo il sarto incostante non ho idea di che sia scegli una carta di un evento e spostala su un altro bersaglio non l'avevo manco mai vista questa carta catena di energia invece si perché fino a quando questa carta rimane scoperta sul terreno sia tu che il tuo avversario dovete pagare 50 points per ciascuna carta che volete giocare o posizionare nelle vostre rispettive mani era giocabile diciamo è un burn in un certo senso nulla di che però eh non ho tenuto granché però tutto questo qua il serpente notturno super sbilucicoso andiamo un po' in chissà se troverò Blackthester Soldier sarebbe bellissimo servitore del faraone vediamo un poco tanti questi pecc si potrebbero trovare pure Jinzo però non direi che Jinzo è passato però non lo so eh vediamo non mi ricordo precisamente dove stava eh metal detector ok drago di fuoco b front va bene così soldato di fuoco numero 2 che l'unica cosa buona per appunto era che c'era 1600 d'attacco ma ormai c'erano tanti di quei mostri che avevano molto più attacco 1800 1900 quindi ciao dono dell'elfo mistico me la ricordo pure questa carta aumenti delle points di 300 per ogni moso tutto il terreno legame gravitazionale i mostri di velo 4 superiore non possono attaccare questa era molto buona per bloccare l'avversario per dare fastidio per non promettere che potesse attaccare quando contavano effettivamente le cose ovviamente tra link x y z magari anche mostri molto bassi insomma può girarci attorno comunque distruggerla in maniera molto semplice però un tempo era molto buona poi abbiamo ombra degli occhi kamikiri volante numero 2 a volte ci mettiamo numero 1 numero 2 va bene orco d'acciaio numero 2 un 6 stelle con 1900 attacco e 2200 di difesa ingiocabile guido dalle tre teste ok questo mi ricordo dell'artwork però sempre roba che non serve letteralmente a niente usceva un sacco di fuffa super fuffa al tempo non serviva davvero a niente se volevo un mostro che era un mostro con normale giocabile di velo 4 inferiore doveva avere o 2000 di difesa o 1800 o 1900 d'attacco 1850 anche che c'era una specifica se no proprio no tra l'altro mi ero dimenticato di far vedere che c'è scritto appunto 25% di anniversario per qua penso che ci sarà per tutto l'anno questa cosa per tutti gli altri pack ci sono già stati se non sbaglio crisi oscura dark crisis vediamo che cosa riusciamo a trovare in dark crisis trio ojama oddio c'erano già gli ojama qua oh my god disegni ojama può essere molto rompicoglioni questo qua non è così male come carta a dire la verità dark scorpion cicchi il codardi dark scorpion donzalug soprattutto chissà se lo troviamo vediamo utilizzati qualche volta però per appunto soprattutto donzalug control che hanno effetti che appunto si attaccano fanno un effetto tipo lui scegli come per salire una carta del terreno fai trovare nella mano oppure può dare la prima carta del suo deck può mettere in cima in fondo al deck insomma è una sorta di controllo un po' così panda gyakugire daie ladro dell'arsenale il tuo avversario sceglie una carta maggiore che il giocamento dal suo deck e la manda al cimitero wow sarebbe un plus adesso forse arcidamone soldato 1900 d'attacco quindi giocabile perché ha 1900 d'attacco anche se qua come potete vedere iniziano ad esserci degli effetti più utili generalmente dei mostri bello 1900 d'attacco lui è figo 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 è un arcidamone è bello 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 oddio drago berserk super sbillucicoso drago berserk che faceva non può essere evocato metto opposizione deve essere evocato specialmente con un accordo con l'arcidamone va bene e non può essere evocato specialmente in altri modi questa carta può attaccare tutti i mostri contro l'altro berserk una volta ciascuno 3500 d'attacco che non ho però accordo con l'arcidamone poi durante ogni 2 end phase penso che questa carta perde 5 di 100 attacco direi che è assolutamente ingiocabile anche per l'epoca però carino abbiamo un altro arcidamone il vilepedone gli archfiend secondo me dovrebbero proprio rifarli o comunque fare nuove carte che ti rendono più giocabili perché non saranno meno giocabili neanche al tempo c'erano sempre il costo della standby phase non avevano effetti chissà cosa si giravano i dadi insomma non erano nulla di che poi riposo eterno definitivo tutti i mostri equipaggiati con un applicato equipaggiamento vabbè ritira il dado vabbè e adesso non ho trovato nulla di che a dire la verità per ora cerco anche se comunque questo qua è sbrucicoso bello vedere legame graditazionale l'angelo spedente si giocava però ecco nulla di che ma voglio vedere adesso qui in invasione del caos in invasione del caos c'era era un set importantissimo che ha cambiato molto il meta e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa davvero bello qui bombardamento delle rovine che faceva può attivare questa carta dove ci sono 30 o più carte nel nel tuo civitero di figli di 2.000 punti di danno nel punto del tuo avversario vabbè al tempo poi era super difficile fare una cosa del genere adesso che puoi millare 50 carte anche se va bene il TGC dei Shizu sono state ridotte a uno meno male forse adesso forse si potrebbe giocare nel senso sarebbe giocabile ma non si gioca troppo lento giga gagajigo c'erano 50 versioni diverse di gagajigo ci sta coccinella dal dorso tesco questa carta viene da un cimitero mentre i i tuoi life points di 1.000 punti veniva utilizzato anche nel competitivo recente perché per questioni di tempo per le regole di tempo è una cazzata dire avete questa cosa però si potrebbe succedere questa cavolata però non è nulla di che questa carta 9 insetto 1.800 d'attacco 1.800 di difesa va bene cauccio triceratopo oscuro ma che è questo se questa carta attacca un 6 stelle con 2.800 d'attacco quindi ok decente se questa carta attacca un mosto in posizione di difesa non ti danno da combattimento perforante ah non credo che si giocasse mai nella vita però ci sta rombo di tuono distruggi tutti i mosti che controlli e se lo fai infliggi al tuo avversario 300 danni per ogni mosto distrutto vabbè soprattutto a Leo non serviva niente ah comunque fanno lo mettere qui fanrir oddio che è fanrir quando questa questa carta non può essere evocata tra un'idevocazione o meno posizionata questa carta può essere evocata solo un'idevocazione speciale rimuovendo dal gioco due mostri di acqua nel tuo cimitero se questa carta si sugi un mosto dell'avversario nel secondo battaglia salta la drawfade del prossimo utono del tuo avversario direi passarsi ingiocabile anche per l'epoca e comunque adesso non ce la farà mai fata delle spine il tuo avversario non può attaccare i mostri insetto se questa carta combatte con un mostro alla fine del mio step metti quel mostro in posizione di difesa a duemila di difesa è la cosa positiva oh giama nero oh mio dio sono terribili io giama e sono terribili sono davvero terribili io giama da vedere non è che sia chissà che strategia però sono anche iconici nella serie GX sono stati iconici chads insomma perfetto ok quindi abbiamo tutte queste cartone che vorrei anche riuscire a preservare in qualche modo dove comprare delle sleeves quindi ricapitolando abbiamo ovviamente le carte solite che puoi ottenere più questa che potrei ottenere per l'appunto una delle varie carte di queste qua però in questa versione e poi ricapitolando non ho ottenuto nulla di che a dire la verità sono stato un po' sfigato però ci sta comunque che era questo qua il triceratoposcuro drago berserker terci demone soldato che è figo legame gravitazionale mammonia fields rego serpente notturno va bene angelo spedente molto molto buono all'epoca questo forse si utilizzava non sono neanche particolarmente sicuro non credo però alla fine però ci sta faccelo anche io già e poi spirito dell'arpa che ha 2 mila di difesa quindi è fantastico per quelle cose si poteva mettere i vostri coperti in posizione di difesa e mettere tanta difesa e difenderti per un bel po' quindi io direi che per questo unboxing della collezione regionale edizione 5 dell'anniversario è tutto volevo tornare un pochettino con i films a passato non è nulla di che a dire verità questo paccone se ormai Konami poteva fare ancora di più però comunque ci sta il prezzo non è neanche tanto e devo dire che sono contento di aver rivissuto anche lo spacchettamento in questa maniera io vi ringrazio molto per essere stati qui con me con questo video spero che vi siano divertiti e avete visto con me tutte queste carte magari vi ricordatevi avete qualche ricordo del passato riguardo a queste carte vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo video che potrebbe essere questo tipo di Yu-Gi-Oh o costantemente di Master Duel che è la cosa principale del canale buona giornata